Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Dunque, dopo l'annuncio del contest della settimana scorsa Oggi che inizia la beta di Destiny alle 7 di stasera Dunque, annunciamo il vincitore Ho riportato tutti i partecipanti qui su questo documento Excel Non tantissimi, anche perchè non è stata fatta chissà quale pubblicità Al video del contest Comunque, è giusto perdere la possibilità a chi segue più assiduamente il canale Dunque, di partecipare, avere questa possibilità Per fare l'estrazione, anziché il solido metodo Dove ovviamente siano giochi più importanti per così dire In questo caso è una beta Normalmente in precedenza sono stati giochi fisici da spedire Utilizziamo al posto dell'estrazione il famosissimo random.org Che ci genera un numero casuale secondo un range deciso da noi Quindi lo riporto tutti i partecipanti qui da 1 a 23 Clicchiamo su generate e vediamo cosa esce Numero 4 vince Reaper Quindi, ovviamente, riceverà tramite messaggio privato il codice per partecipare alla beta Chiudendo quel video ricordo a tutti che ci saranno altre iniziative di questo tipo Onde per premiare tutto il seguito del canale E come al solito vi ricordo di volendo lasciare un mi piace Comunque continuare a seguire il canale con l'iscrizione Io per il momento vi saluto in questo breve video E ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti